buongiorno a tutti ci prendiamo il nostro bello caffè appena fatto sembra forza foccio allora nel video precedente ho sbagliato toninelli tonucci vabbè si può sbagliare comunque nessuno è nato imparato nella vita comunque le richieste sono molto appetitose perché vendura si vuole portare chievo veruno denis tonucci e oliver gragal di cui due giocatori che per il chievo veruno sono fondamentale per vendura per gennaio se li vuole portare lì a chievo veruno e c'è anche un terzo giocatore però non voglio bilanciarmi però c'è anche un terzo io spero che che rimangono a foccia però non penso proprio io spero che rimangono però non penso che loro perché l'offerta è molto alletta dispiace se ne vanno dispiace molto denis tonucci è un bel giocatore oliver gragal tiri micidiale bombe c'è un pino porca miseria dispiace se ne vanno però ho messo gli occhi da su vabbè purtroppo quando arriva un offerto una squadra una squadra di serie a come il chievo veruno sembra sempre se rimangono sempre c'è sempre la speranza se il chievo veruno rimane in seriano comunque però a gennaio secondo me c'è ancora il campionato in corso c'è un l'ottanta per cento vendura se vuoi portato vabbè comunque dispiace molto ma vabbè abbiamo gli altri giocatori che daranno anche il massimo al nostro foccia va bene e così è la vita chi va e chi viene noi abbiamo dei bei giocatori ci rifaremo ci saranno degli altri giocatori sempre forza foccia dovunque se potete pure sbagliare qualche volta con denis toninecci toninelli l'ho detto di nuovo denis tonucci e oliver cragal via a gennaio via oliver e denis è stato bello fine a gennaio fine dicembre ci guardiamo questi due giocatori poi a gennaio pace a livelli e c'è grazie buon giovedì a tutti e sempre forza focci e iscrivetevi al mio canale è una vita è un bucacchio nella vita è tutto si può sbagliare nessuno è perfetto